E' il mio messaggio E' mio Ehi, ciao, cosa fai? No, 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 niente, no, niente Sono a dieta, no, non sgarro, non sto sgarrando, no E quello cos'è? Non era niente Ma no, ecco, vedi, ho sgarrato di nuovo Sono solo le otto del mattino Sono una frana Su, su, non buttarti giù Butta lo snack E' che non ho fatto colazione Ciao amici, oggi parliamo di una cosa importantissima, vitale direi Di come trovare l'anima gemella? No, non oggi Ma magari presto faccio un video sull'amore Intanto potete guardare questo Su come essere più carismatici e affascinanti Serve sempre L'argomento vitale di oggi riguarda la prima colazione E' l'inizio della giornata Il primo pasto che facciamo Quello che decide se la giornata inizierà bene o male In tutti i sensi Anche psicologico ed emotivo Perché la colazione influisce anche sull'umore E vi spiegherò come Come sempre Sull'argomento c'è molta disinformazione E oggi voglio sfatare due falsi miti E darvi una notizia rivoluzionaria Partiamo subito dalla notizia rivoluzionaria Per stare in forma e mangiare bene Le calorie sono sempre meno implicate Nelle strategie di nutrizione corretta e di immagrimento Lo sapevate? Quindi se vogliamo che la colazione sia il pasto più importante Per stare bene, dimagrire, avere un corpo tonico, snello E bruciare i grassi in eccesso Pensiamo in termini di nutrienti e non di calorie Davvero? Tu pensa? Ma senti io leggevo che per dimagrire bisogna saltarla la colazione Ecco il primo falso mito La colazione è il pasto più importante E non va saltata per nessun motivo Bisogna fare una colazione light ma nutriente Anche per avere meno attacchi di fame durante la giornata E per evitare il nemico numero uno Per chi vuole dimagrire Gli snack dolci di metà mattina Eh eh Quindi chiedetevi cosa mangio a colazione? Beh io mangio una tazza di latte con i cereali Poi la frutta E poi mi bevo un bicchier d'acqua pieno Così sono bella idratata Vedi c'è scritto qua nei miei cereali Ecco il secondo falso mito Le indicazioni sulle confezioni dei prodotti commerciali Non garantiscono correttezza nutrizionale Cereali e frutta fresca insieme Fanno un mix indigeribile E il latte di mucca è troppo grasso E molti non lo tollerano Poi sappiamo che fa male all'intestino Con questa colazione Il blocco della digestione è assicurato Per prima cosa L'acqua va bevuta prima di colazione Ancora meglio se già non lo fate Acqua calda e limone Come spiego in questo mio video Allora faccio come ho letto nei miei biscotti preferiti Quattro frollini, un kiwi e un bel caffè Ancora peggio Frutta fresca e caffè insieme Creano una reazione acida nello stomaco e nell'intestino Che può portare anche a gastrite e colite Chissà come mai abbiamo tutti la pancia gonfia E poi quei pochi frollini non bastano Sono a base di farine raffinate Zuccheri e grassi artificiali Quindi non nutrono Per questo poi viene il vuoto A metà mattina Una voragine Resistere alle schifezze diventa difficile Poi uno pensa di non riuscire a stare a dieta E rinuncia del tutto E al mare invece di sembrare belen Sembro platinet Capita a moltissime persone Ma in questo vlog voglio dire a tutti Che non siete voi ad essere sbagliati Una colazione sbagliata compromette tutti gli sforzi del giorno Per pancia, fianchi, cosce e glutei Non seguite le indicazioni sulle confezioni Servono a creare ancora più dipendenza da zuccheri e stimolanti Ci avete mai pensato? Ragionate con la vostra testa Ormai tutti sanno che non va bene iniziare la giornata Con un eccesso di zuccheri, farine, grassi industriali Anche perché questi alimenti invece di dare energia al corpo Ne portano via Il corpo deve faticare di più Per digerirli Per mantenere gli zuccheri in equilibrio E sapete cosa succede? Che diventiamo stanchi Ma siccome abbiamo tutti troppe cose da fare Non ci possiamo permettere di sentirci stanchi E allora pensiamo di essere depressi E mentre andiamo dallo psicologo Ci tiriamo su con un dolcetto Un po' di zucchero Non è assurdo? In linea generale La colazione ottimale Che fa stare bene E aiuta a bruciare i grassi Deve contenere questi nutrienti Carboidrati Ma a lento rilascio Quindi con farine integrali E non raffinate Grassi Ma grassi buoni Come quelli della frutta secca Che sono molto più digeribili Del latte o del burro Proteine Che possiamo derivare anche dai cereali Che ne contengono in proporzione Zuccheri Ma quelli naturali Della frutta secca Per esempio Vanno benissimo Evitate cibi Che contengono zucchero bianco Comunque Ho descritto una colazione ottimale In questo video E domenica Vi farò vedere la mia colazione Dimagrante Light Brucia grassi Nutriente E antidepressiva E buona Con cui mi tengo in forma Ogni giorno Nel frattempo Condividete questo video Su Facebook Twitter Via mail Fatelo vedere ai vostri amici E mettete un bel mi piace Tanti mi piace Tanti nuovi video Iscrivetevi al canale E attivate le notifiche Bene Per oggi è tutto Ci vediamo presto Qui sul canale Naturalmente Ciao Hi Poi me lo mangio Che ne protengono Questa tutta si è inventata Scusa Bye